Sai che se nasce una stella la vediamo tra tanti anni? Perché? Perché la luce viaggia cento, mille anni. Ma io ne ho vista una che è già arrivata fin qui. Sì, la stella di Negroni col profumo dei suoi zamponi e cotechini. E oggi una nuova idea Negroni. Zampone e lenticchie insieme. Già cucinati e pronti in un unico piatto. Zampone e lenticchie. Hai visto che è arrivata una stella? Quaggiù o lassù? La stella di Negroni vuol dire qualità. Grazie.